4 nuovi casi su 160 tamponi processati per un tasso di positività che torna ai valori di tranquillità con il 2,5%. Tra i nuovi positivi, attualmente 243 in totale, è stato necessario il ricovero in area medica per due persone. Con le dimissioni di un degente, il reparto di malattie infettive del Cardarelli è ora occupato da 9 pazienti. Dall'ultimo bollettino sono segnalati anche 18 guariti, un quadro che lascia il Molise tra le regioni in cui l'indice RT è in rialzo ma resta il più basso d'Italia. Secondo il monitoraggio settimanale è allo 0,52 contro lo 0,27. La regione passa da rischio moderato a basso ed è anche quella con il dato migliore in Italia per l'incidenza settimanale dei nuovi casi. Ogni 100.000 abitanti 22,6 mentre la soglia di allarme è 50. Sostanzialmente stabile la situazione negli ospedali, con le percentuali dei posti occupati nettamente al di sotto delle soglie d'allarme. In area medica i posti impegnati sono il 4,5%, con la soglia fissata al 15, mentre in terapia intensiva il tasso è zero, considerato che non ci sono pazienti ricoverati. Intanto la quarantena Covid per alcune categorie di lavoratori non è coperta dall'Inps e 1.700 molisani rischiano di rimanere senza soldi e contributi con un impatto economico medio che va da 650 a 1.100 euro. A denunciarlo sono il segretario regionale della CGL di Abruzzo e Molise, Franco Spina, il coordinatore regionale Inca Abruzzo-Molise, Mirko D'Ignazio. Il 6 agosto scorso l'Inps, con un proprio messaggio, ha comunicato che a causa dell'eseguità delle risorse messe a disposizione dal governo, la quarantena non sarà più equiparabile alla malattia.